Gentili telespettatori, buona giornata. Rayport e il suo conduttore Sigfrido Ranucci rispondono al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Su come stanno le cose vedremo se in questo articolo si riesce a capire qualcosa, perché Rayport ha mandato in onda ieri sera su Rai3 un servizio sull'incontro tra Matteo Renzi in un autogrill vicino Roma a Fiano Romano con Marco Mancini, agente dei servizi segreti italiani. Un incontro misterioso soprattutto perché è avvenuto in piena crisi di governo. Era il 23 dicembre quando il leader di Italia Viva veniva visto, beccato, chiamiamolo così, mentre parlava con l'agente segreto. Luciano Nobili, deputato di Renzi, Renziano, presenta un'interrogazione parlamentare al ministro dell'economia e delle finanze per chiedere di fare chiarezza. Ma chiarezza su che cosa? Parlano da Italia Viva di una presunta fattura da 45.000 euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio. Contro Renzi è l'interrogativo posto da Nobili che poi ha aggiunto vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l'immagine di Renzi. Chi ha seguito Renzi fino all'autogrill e con un teleobiettivo ha fatto quelle video, quelle foto? Chi? Report? Delle persone come facevano a sapere l'incontro tra questi due? Insomma, si incontra in un autogrill dove è evidente che è un posto dove è difficile essere seguiti, no? Non sei in centro dove ci sono mille occhi a Roma, l'autogrill, no? In una piazzola di sosta. Beh, vogliamo vederci chiaro, dice Italia Viva, Capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l'immagine di Renzi. Ci chiediamo con preoccupazione se la RAI compri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta. Poi lo stesso Renzi, leader di Italia Viva, ha intervenuto a Report con un'intervista sull'argomento. Ha tweetato un messaggio diretto agli inconsolabili, il governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti all'autogrill. Semplicemente Draghi è meglio di Conte e oggi l'Italia è più credibile. Tutto qui si chiama politica. Conte è caduto non perché Draghi sia più bravo. Che Draghi sia più bravo di Conte su questo non c'è dubbio. Conte è caduto, messo in difficoltà da Matteo Renzi, perché Matteo Renzi voleva politicamente mandare via Conte, farlo tornare all'università, per non avere più un competitor politico importante nel centro-sinistra. Renzi voleva essere il centro dell'attenzione nel centro-sinistra, il candidato premier, quello con il partito con più voti, quindi aveva bisogno di mandar via Conte il prima possibile. E così c'è riuscito, mandar via Conte per poi far mettere Draghi, che vabbè indubbiamente non c'è paragone, ma la sua idea era quella, avere campo libero politicamente. La ragione Renzi solo nell'ultime tre parole. Si chiama politica. Sì, ha fatto lui politica, ha fatto i suoi giochi ed è riuscito ad ottenere quello che voleva. L'incontro all'autogrill con un agente dei servizi segreti, ma probabilmente c'è un qualcosa di diverso dalla caduta del governo Conte. Ci sarà un'altra motivazione che non conosciamo, sarà una motivazione diversa. Non credo che c'entri niente con Conte e la caduta del governo, ma c'entrerà con altre cose che non sappiamo. Ovviamente se un politico e un agente dei servizi segreti si incontrano all'autogrill, non è per raccontarsi cosa hanno fatto l'estate scorsa. Ecco. E da Rai News arriva la replica di Siegfriedo Ranucci alle accuse del Renziano Nobili. Dice Report non ha mai pagato una fonte in 25 anni. Cercheremo di capire il contenuto del dialogo tra Renzi e l'agente segreto. Avremo anche un'intervista con il leader di Italia Viva. Siamo accusati di aver pagato una fonte per realizzare il servizio, ma in realtà in 25 anni di trasmissione, a 25 anni Report, un quarto di secolo, non abbiamo mai pagato nessuno. Poi l'interrogazione parlamentare è confusa perché si parla di Report e poi si dice che la Rai avrebbe pagato una fattura a una società estera. Allora, quello che mi chiedo io è questo. Scusate, intanto attacchiamo la corrente perché si sta spegnendo. Chi ha seguito Renzi? Chi sapeva dell'incontro di Renzi con l'agente segreto e si è messo lì a fare le foto col teleobiettivo? Quindi sono stati seguiti da qualcuno. Quel qualcuno che li ha seguiti sono giornalisti o sono altri dei servizi segreti che poi hanno dato questa informazione a qualcun altro? E poi, Italia Viva e Nobili, cosa ne sanno di una fattura di 45.000 euro della Rai a una società lussemburghese? La domanda è, tutte queste informazioni da una parte e dall'altra, come fanno ad averle sia Italia Viva e Renzi da una parte e sia Report dall'altra? Fatture della Rai e l'incontro di Renzi. Chi ha seguito Renzi? Chi ha detto delle fatture della Rai? Ecco, ci sono degli interrogativi interessanti, curiosi. Bene, vedremo che cosa ne diranno nei prossimi giorni e cosa ne verrà fuori. D'altronde, Renzi è già innocuo perché con il suo partito al 1,9% in realtà politicamente non conta più nulla. E parliamo di politicamente non come persona, ovviamente. Si parla del politico, non della persona. Politicamente non conta più nulla. quindi non può più danneggiare né la sinistra né la destra perché con l'1,9% non entri più neanche in politica. Non hai la possibilità di entrare né nel Parlamento né nel Senato alle prossime elezioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Se volete, tra una ventina di minuti ci vediamo per un altro video qui sul canale. Grazie. 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 Grazie.